Il 31 maggio barra il simbolo di Fratelli d'Italia e scrivi Baldelli. Buonasera, benvenuti a questo spazio di approfondimento elettorale. Conosciamo un candidato alle prossime elezioni regionali il 31 maggio prossimo, Antonio Baldelli che si candida nelle file di Fratelli d'Italia alleanza nazionale. È già capogruppo di maggioranza nell'amministrazione pergolese. Buonasera Antonio, la sanità è stato un baluardo dell'amministrazione pergolese, avete difeso il vostro presidio con le mani e con i piedi, con i denti, insomma siete riusciti a mantenerlo funzionale, attivo e frequentato. Qui a Pesaro c'è nella provincia di Pesaro la diatriba eterna tra ospedale unico sì e ospedale unico no, fanno e Pesaro, si stanno litigando un sito, insomma. Qual è la visione tua su questa questione? Beh, l'impegno di questo candidato in consiglio regionale è un impegno chiaro, concreto. Cancellazione del piano sanitario regionale e un no secco all'ospedale unico. D'altronde l'ospedale unico viene definito a pagina 225 del piano sanitario regionale 2012-2014, che chiama l'ospedale unico come struttura unica per la copertura del bisogno di cura e assistenza a livello minimo di aria bassa. Ciò significa che in futuro la provincia di Pesaro avrà un solo ospedale per l'intero territorio provinciale che verranno chiusi tutti gli altri ospedali, verrà chiuso l'ospedale di Fano, verrà chiuso l'ospedale di Pesaro, verranno chiusi gli ospedali di Urbino e di Pergola. In realtà sono già stati chiusi gli ospedali di Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro, riconvertiti in casa della salute e ci ritroveremmo una sanità e un'organizzazione sanitaria che non sarà più in grado di rispondere alle esigenze del territorio e dei nostri cittadini. D'altronde che la sanità della nostra provincia non dia già più risposte ai nostri cittadini lo si evince chiaramente dai dati della mobilità passiva che sono stati pubblicati dalla regione Marche e sono stati riportati persino dalla stampa. Ebbene nella nostra provincia, la nostra provincia produce una mobilità passiva di ben 48 milioni di euro. Ciò significa che i pazienti della nostra provincia fuggono verso le regioni vicine, fuggono verso l'Emilia Romagna, fuggono verso l'Umbria ma persino verso la Lombardia dove trovano cure adeguate e risposte agli esami diagnostici in tempi accettabili, cosa che non avviene nella nostra provincia, che non avviene nella nostra regione. Per questo dico anche no ad un ospedale unico, perché questo ospedale unico è solamente una chimera futura, ossia si dice ai cittadini che verrà creato un ospedale unico che risolverà tutti questi problemi, in realtà questo ospedale unico non verrà mai costruito perché non ci sono i fondi e non c'è persino un sito dove costruirlo. Ormai è chiaro a tutti, mentre all'inizio si pensava come è possibile questa struttura, ormai anche quelli che avevano accolto questo progetto con grande entusiasmo hanno compreso che è un progetto irrealizzabile. E allora bisogna avere il coraggio di dire no all'ospedale unico e di mantenere e potenziare la nostra sanità. Anche i cittadini della costa, che fino a qualche tempo fa erano stati risparmiati dalla falcidia e dalla chiusura dei servizi, stanno conoscendo questa problematica. Perché, come ti dicevo, con la scusa di realizzare in un futuro un ospedale unico che mai verrà, stanno depotenziando anche le strutture di Pesaro e di Fano. E i cittadini, nemmeno più i cittadini di Pesaro e Fano, trovano risposte adeguate presso i loro nosocomi. Anche i pazienti anziani, che sono pazienti deboli, fragili, agli spostamenti hanno dei notevoli problemi. Vede, e quella forse degli anziani è forse la pagina più tragica. Un medico di base mi raccontava proprio nei giorni scorsi che un paziente del nostro entroterra, un anziano di oltre 75 anni, aveva bisogno di cure ospedaliere, non ha trovato risposta nei nostri ospedali della provincia di Pesaro Urbino ed è dovuto partire verso l'Emilia Romagna. Sua moglie, 75 anni, oltre 75 anni, lo ha accompagnato fino all'ambulanza e lo ha salutato come fosse l'ultima volta, perché lei non avendo figli, non avendo possibilità di raggiungere il marito, ha salutato suo marito sull'ambulanza come fosse l'ultima volta. E credo che questa sia veramente una grandissima ingiustizia. Credo anche che questi rappresentanti della maggioranza regionale che ora si presentano come il nuovo, sarebbe veramente una barzelletta, è una barzelletta, un esponente del Partito Democratico o un uomo di spacca che si presentano ai cittadini e agli elettori come il nuovo, dovrebbero vergognarsi per quello che sta accadendo. Ecco, gli aspetti sociali di una sanità in difficoltà sono anche il rovescio della medaglia, poco simpatico. Cambiamo argomento, parliamo anche dell'immigrazione che abbiamo tutti sotto gli occhi, sia a livello mediatico che anche a livello informatico, in questi ultimi tempi. L'ago della bilancia è sempre difficile da collocare nella giusta posizione tra il giusto accoglimento, la giusta operazione umanitaria e non creare un allarmismo sociale per un sovraffollamento di locali e di siti che non sono adeguati per recepire. Qual è la giusta visione e qual è la sua visione per questo aspetto? Io concordo con te. Allora, il tema dell'immigrazione è un tema assai delicato perché riguarda la vita e il futuro di centinaia di migliaia di persone ma sicuramente la soluzione non è quella che propone il nostro governo che propone la nostra regione. Non si possono spalancare le frontiere senza regole e senza controlli. Per noi accoglienza significa accogliere l'immigrato e poterli consentire un futuro sereno, un futuro decoroso. Ciò oggigiorno non è possibile nemmeno per noi italiani. Abbiamo visto la regione proprio nelle settimane scorse tagliare ben 38 milioni di euro al welfare, praticamente annullare i servizi sociali nella nostra regione, nella nostra provincia. Non ci saranno più soldi per i disabili, non ci saranno più soldi per gli anziani, non ci saranno più soldi per i malati mentali e allora si trovano dall'altra parte 42,50 euro al giorno per ogni immigrato ospitato. Allora a me viene in mente una intercettazione telefonica fatta dai carabinieri nell'operazione mafia capitale dove si diceva che forse l'immigrazione era il business più redditizio di quest'ultimo periodo, ancora più del traffico e dello spaccio degli stupefacenti. E allora credo che gli italiani e gli abitanti della nostra regione siano consapevoli di questo e chiedano ai governanti, anche alla regione Marche, di prendere una posizione netta e precisa. Un'immigrazione solamente con regole e solamente con controlli. Noi non possiamo accogliere tutti, ma dobbiamo accogliere chi merita di essere accolto. Ecco, poi nella società ci sono dei rebound, delle riverberazioni, una di queste è le case popolari e lei ha in visus proprio di presentare in regione una proposta che riguarda proprio l'assegnazione delle case popolari. Vede, come amministratore comunale ho assistito a delle vere e proprie ingiustizie, ho assistito a dei cittadini italiani che attendono l'assegnazione di una casa popolare da oltre 15 anni e si vedono purtroppo sorpassati da immigrati che sono arrivati nelle nostre comunità anche da pochissimi anni. Questo è veramente ingiusto, anche perché le case popolari sono state costruite con le tasse degli italiani, quindi è giusto, non è razzismo, è giusto che gli italiani abbiano la priorità nella loro assegnazione. Per questo che qualora sia eletto all'interno del Consiglio regionale, la mia prima proposta di legge regionale sarà quella di una legge regionale che preveda la precedenza agli italiani nell'assegnazione delle case popolari. Ecco, scenari futuri e giochi di scacchiera se ne fanno tanti, quali sono le possibili alleanze che si possono sviluppare per questa tornata elettorale? Bene, i partiti politici in questa tornata elettorale hanno dato il peggio di loro stessi. Partiamo dal Partito Democratico, che come dicevo prima si presenta come il nuovo della politica della nostra regione, ossia un partito che governa, o meglio, mal governa la regione Marche da oltre un decennio, ha l'impudenza di presentarsi come il nuovo della politica regionale. E se non si trattasse di una cosa seria mi sembrerebbe di assistere ad una puntata di Zelig, questa è la verità. Ci sono personaggi candidati nel Partito Democratico, e i fanesi li conoscono, i pesaresi li conoscono, che occupano le poltroni istituzionali, regionali, provinciali e comunali da oltre 30 anni e hanno la faccia tosta di presentarsi come il nuovo della politica regionale. Poi passiamo a Spacca. Spacca è l'attuale governatore della regione Marche, è stato colui che ha distrutto la sanità nella nostra regione, è stato colui che ha governato fino a ieri, anzi, governa fino ad oggi, perché non ha avuto il coraggio, non ha avuto il decoro di dimettersi, governa fino ad oggi con il Partito Democratico e oggi si presenta anche allo stesso tempo come alternativa al Partito Democratico. Adesso capisco anche perché i cittadini siano veramente disgustati da questo modo di fare politica. Poi abbiamo un caso eclatante nella nostra regione, nella nostra provincia, quello di Forza Italia. Forza Italia che nella nostra provincia, nell'ottobre 2014, ha addirittura fatto una lista unica in provincia con il Partito Democratico più vecchio del vecchio, ossia con il Partito Democratico di Ucchielli, di Palmiro Ucchielli e di Matteo Ricci e d'ora addirittura è alleato di Gian Mario Spacca. E pensate che cose strane accadono nella politica, o meglio, in questi partiti. Vi sono dei consiglieri regionali che attualmente siedono nei banchi dell'opposizione alla giunta Spacca-Partito Democratico e in questi giorni sono a fare propaganda elettorale insieme a Gian Mario Spacca. Io credo che non c'è limite alla vergogna in questo momento. La coerenza è un valore, non aggiunto, ma un valore essenziale. È un valore essenziale che non è conosciuto né dagli uomini di Spacca né dagli uomini di Forza Italia e per questo ha molto apprezzato la posizione di Forza Italia fanese che ha detto che non avrebbe candidato alcun suo esponente assieme a Gian Mario Spacca e così ha fatto. È stata una posizione di grande dignità e di grande decoro, non solamente politico ma anche personale. Quindi il 31 maggio il voto di Antonio Baldelli è un voto... che voto è? È un voto di cambiamento, di rottura, di rottura contro questo sistema di potere che vede al vertice il Partito Democratico, un sistema di potere che se non sei con loro non ti dà spazio, ti emargina. Dobbiamo rompere questi schemi e soprattutto un appello a tutti coloro che hanno deciso di astenersi. È sbagliato perché chi non va a votare consentirà che nulla cambi, consentirà che tornino quei personaggi che come dicevo prima occupano gli scranni della regione, della nostra provincia da oltre 30 anni. Andiamo a votare e cambiamo questa regione finalmente. Bene, grazie Antonio Baldelli per la sua presentazione. Ci chiudiamo qui questo spazio di approfondimento elettorale per le regionali 2015. Buonasera e grazie per la vostra attenzione. Buonasera a tutti.